Torna anche quest'anno l'appuntamento con la giornata di ambientamento per le matricole, un'iniziativa promossa dal servizio tutorato per facilitare l'inserimento dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro nuovi strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi universitari. Le giornate saranno ricche di appuntamenti come presentazioni dei corsi di laurea attivati da Unicam e tutti i servizi che l'Ateneo mette a disposizione degli studenti, nonché visite alle strutture, agli alloggi e agli impianti sportivi. Le giornate di ambientamento si svolgeranno a Camerino e a San Benedetto del Tronto il 27 settembre, ad Ascoli Piceno il 6 ottobre e a Matelica il 26 ottobre. Come ogni anno, inoltre, per consolidare la preparazione di coloro che intendono accedere ad un corso di laurea scientifico, il 5 settembre inizierà il corso intensivo di Matematica e Logica. Tutte le informazioni sono comunque disponibili nel sito tutorato.unicam.it slash iniziative.